Musica Allora eccoci, siamo qui con il Vice Ministro Calenda Buongiorno Il nostro Globe Trotter del Made in Italy Noi lo definiamo spesso per l'impegno profuso in giro per il mondo Per la promozione del paese Siamo qui alla 54esima edizione del Salone del Mobile Nell'anno eccezionale di Milano In particolare dell'Italia più in generale Pare che questa sia una certezza iscalfibile Ah sì lo è, è un evento leader Lo è sempre stato Lo rimarrà, è l'evento che riesce a evolversi continuamente Per rimanere leader Adesso il tema è non abbassare la guardia Quest'anno noi supportiamo economicamente molto Perché riteniamo che gli eventi leader non vadano persi Ovviamente bisogna sempre stare attenti alla competizione internazionale Ma dall'altro lato stiamo ragionando su cosa fare in paesi ad altissimo potenziale Come Stati Uniti e Cina Dove l'anno scorso abbiamo fatto rispettivamente più 12 e più 23 E dove il lavoro è ancora enorme Soprattutto per le medie imprese E quest'anno può essere straordinario Perché l'anno scorso questi numeri li abbiamo fatti con un euro Con un cambio che era mediamente intorno a 1,30-1,35 Quindi insomma abbastanza alto Quindi era la domanda americana che era ripartita Quest'anno ci mettiamo sopra l'effetto del moltiplicatore del cambio Questo allineamento che diciamo era da tanto tempo Sì, oggi siamo a 1,05 E infatti proprio al prossimo anno Entro il 2016, inizio del 2017 Anche il salone dovrebbe sbarcare prima in Cina E poi è prevista anche una versione americana Sì, noi stiamo lavorando per fare un po' di espansione lì Con attenzioni diverse E con una consapevolezza Che se sbarchiamo in qualunque paese Lo dobbiamo fare da leader E quindi farlo molto bene E partendo da queste certezze come zona del mobile Non si può che far bene Altra novità appena presentata Proprio al taglio del nastro Di questa nuova app in Italy Che diciamo è al passo coi tempi Perché inizia a raccontare la tradizione L'innovazione che c'è nei prodotti italiani Con i linguaggi e gli strumenti moderni Forse un po' siamo stati indietro finora O forse non c'è stata una politica razionale Perché risorse ne sono state spese Però magari in maniera poco oculata Poco concreta Invece questa potrebbe essere una best practice Come lei ha detto Da estendere un po' a livello nazionale È un ottimo modo di fare promozioni In maniera moderna Ma soprattutto un ottimo modo Che consente di spiegare Cosa c'è dietro il prodotto italiano In termini di capacità manuale E di concezione di design Non c'è solo una linea di produzione Esattamente E fare questo è complesso Però la tecnologia ci aiuta moltissimo Ed è vero che l'Italia l'ha fatto spesso male Non l'ha usato bene Quest'anno sembriamo orientati a qualcosa che può funzionare Noi lo applicheremo Vediamo prima come funziona per il settore del mobile È sempre importante fare dei test Ma la consapevolezza è quella che potrebbe essere Un turning point per gli strumenti di promozione internazionale Grazie Grazie tanto Grazie